Cora In questa storia ci sono tante storie. Nella voce che ascolterete ci sono tante voci. In Dario Brunori, come dice lui, abita un intero condominio. C'è il Dario bambino, affetto da una vaga timidezza che chiude la camicia fino all'ultimo bottone, il Brunori adolescente, chitarrista da falò, che trova gli accordi al limitare di una spiaggia, il Dario Brunori, parcheggiatore a Siena, con una laurea in economia e commercio nella tasca, che sogna di ritrovare la melodia giusta per guidare finalmente libero nei suoi vagheggiamenti e nelle sue canzoni. In Dicono di te scoprirete come uno dei cantautori più originali d'Italia abbia trovato la sua strada. Lo scoprirete leggendo la sua mappa, tra le pieghe del suo viaggio sentimentale, negli angoli in cui far brillare ironia, ricordi e sconfinato amore per il gerundio, che è un tempo verbale, dice Dario Brunori, che protegge e lascia aperte tutte le possibilità. La vita com'è, per prendere in prestito il verso di una sua canzone, lo scopri soprattutto quando sai voltarti indietro, senza dimenticarti di andare avanti. Io sono Malcom Pagani e questo è Dicono di te, un podcast prodotto da Cora Media e Tender Stories. Portare Dario Brunori lontano da San Fili, tranne quando non lo trovi in tour, nei teatri, nei palazzetti, e forse un giorno chissà, contravvenendo la sua naturale ritrosia persino negli stadi, è un'impresa. Quindi averlo qui a Roma per questa conversazione è un dono. Volevo partire da Franco Arminio, Dario. Innanzitutto ti è pesato venire a Roma? Tantissimo, lo sai, mi è pesato tantissimo e questo io vorrei far capire il grado di affetto che provo per te. Grazie, lo so, spostarti è reciproco, come diceva Carlo Verdoni in un suo film, lo vedi che la cosa è reciproca. È reciproca. Senti, volevo partire da Franco Arminio, che è un poeta che ami molto. Lui dice che oggi essere rivoluzionario significa togliere, non aggiungere, rallentare più che accelerare, dare valore al silenzio, alla fragilità e alla dolcezza. Beh, sicuramente mi trova d'accordo, da una parte mi viene da dire ironicamente, perché io seguo alla lettera queste sue indicazioni, cercando di pubblicare cose a distanza di 3-4 anni una dall'altra e cercando appunto di rimanere abbastanza chiuso nelle mie mura domestiche. dall'altra sicuramente, sai, questo è un po' come dire il lessi smorre, una cosa che ho sempre cercato di inseguire, perché penso che sia molto importante per chi fa questo mestiere come lo facciamo noi, evitare la tentazione di una bulimia di uscite che possono essere di vario tipo, anche da un punto di vista dei social, non solo da un punto di vista delle pubblicazioni, di ciò che si pubblica ufficialmente. Ancora di più dal punto di vista della pubblicazione ufficiale. L'altra volta, facendo una chiacchierata, citavo un video che ho visto di Tondelli, pochissimi ce ne sono tra l'altro in rete, in cui mi aveva folgorato un passaggio in cui lui diceva che la differenza fra la letteratura e l'intuizione iniziale sta proprio nel lavoro che si fa nel mezzo e molto spesso hai un'intuizione e poi però lavori su quella pagina e ci lavori tanto finché quella pagina non diventa un'altra cosa che è letteratura. Molto spesso questo lavoro è un lavoro di sottrazione. Ultimamente, anche dal punto di vista musicale, sto cercando io che, essendo del sud, sono molto nell'idea di una sorta di… un po' come facciamo a tavola, facciamo anche nei dischi, mi piace molto la ricchezza, la ricchezza sonora o una band, come tu sai, molto corposa di musicisti che sanno suonare tanti strumenti, però la sfida è proprio questa, cioè cercare anche in un contesto numeroso di sottrarre e di… L'invito che io faccio spesso alle persone che collaborano con me ultimamente è proprio quello di scegliere in maniera sapiente quando intervenire e non pensare che dobbiamo intervenire tutti contemporaneamente. Una delle peculiarità di Dario Brunori è che dice una frase e a me ne vengono in mente, è un talento Dario, almeno altre cinque. Allora hai parlato della tentazione da sopprimere, di mandare fuori, di rendere parola a quello che ancora non è degno di esserlo. Hai parlato dell'estate, hai parlato dei tondelli, che in altri libertini scrive, vado a memoria, Agosto è una meraviglia in città perché non c'è nessun rompiballo in giro e mi viene in mente che ora che l'estate declina e tramonta c'è la mania del tormentone estivo, eppure una delle canzoni più riuscite sull'estate italiana, la spiaggia di Guardia Roventa era piena di gente, si parlava di sport di Pertini e Berzotti, un tuo ricordo cinquenne sulla spiaggia di Guardia Piemontese e l'hai scritta proprio tu, Guardia 82. Cos'è secondo te quel talento che fa sì che quando una canzone è finalmente pronta ci fa specchiare in quelle parole, in quel ricordo, nei palloni arancioni sgonfiati? Ma a parte che penso che il discorso del tormentone estivo sia stata poi una trasformazione, e anche questa dobbiamo in qualche modo, non dico accettarla, ma comprenderla, di una tradizione che comunque sull'estate è sempre stata una tradizione autoriale in Italia, cioè insomma abbiamo tantissimi esempi, a parte Guardia 82, sicuramente avevamo come italiani interiorizzato l'idea che la canzone estiva era sia la canzonetta che poteva essere tutti al mare, oppure con le pinne, il fucile e gli occhiali, ma poteva anche essere Odio l'estate, oppure estate, oppure anche Sapore di sale, che comunque è una canzone... È un capolavoro, scusami. Quindi c'è questa idea forse adesso sempre virata verso lo IEA, che secondo me nasconde di fondo, mi viene da dire senza essere moralista, l'idea che questo IEA poi non sia così IEA, questa forzatura sempre verso il divertimento e la visione dell'estate come divertimento e basta, così come mi sembra l'idea della vita come divertimento e basta, come se le cose oscure fossero un inquinamento e comunque le ombre fossero una cosa da tenere fuori dalla propria vita per non intristirsi. Mentre, come diceva il buon Caparezza, è più triste un oasi di finto divertimento rispetto all'idea che ci possono essere questi contrasti, perché è inumano pensare che non ci siano. Quindi secondo me, rispondendo alla tua domanda dopo questo lungo paneggirico, ci si specchia nelle canzoni quando le canzoni sono autentiche, quando vanno a toccare comunque qualcosa che tu hai provato e non ti ingannano. E questo è un lavoro incredibile, secondo me, per un autore, perché anche l'autore stesso deve sfuggire tra le altre tentazioni a quella di autoingannarsi e di ingannare, quindi di giocare su territori semplici. E lo dico anche a me stesso, cioè io non tendo solo a pubblicare lentamente per pigrizia, anche se io parlo di ozio, come dice Jerome, non sono pigro ma sono ozioso, però è anche che è una sorta di condotta etica nei confronti di quello che fai, che penso che sia poi anche un atto politico. Quando ci si chiede quando è che è una canzone impegnata, io dico che è una canzone impegnata, anche una canzone estiva, se tu l'hai fatta seguendo un certo rigore, che non è giocare e vincere facile, ma cercare invece di raccontare andando a scremare tutti gli orpelli inutili, gli ammiccamenti e le strizzatine d'occhio e invece cercando di dire qualcosa che può essere anche, che è vero, che è autentico e che arriva alle persone e può essere anche un ristoro, perché secondo me in un mondo in cui non ci sono canzoni vere o non ci sono anche canzoni che raccontano le ombre, chi queste ombre le vive quotidianamente si sente sempre più solo. A me canzoni amare non è che mi hanno aiutato perché mi hanno intristito, anzi mi hanno reso felice perché mi hanno detto che non sono solo, non sono il solo a provare queste cose, se invece non c'è nessuno che le canta, uno dice vabbè allora proprio sono solissimo perché se nessuno le prova. Sì e poi comunque per gli strani viaggi della nostra mente ci può consolare sia Luglio col bene che ti voglio, sia Morricone che su Abbronzatissime fa tanta tanta e ci porta in un viaggio sia il Guccini di Canzoni Quasi d'Amore che forse è la canzone più triste della musica italiana, anche una delle più belle come testo, ma certo come dici tu ci fa rispecchiare in una situazione in cui siamo tutti soli ed è una grande consolazione. Certo, ma infatti non è che l'una cosa esclude l'altra, ultimamente sto leggendo un po' di più per via di amicizie con Andrea Zingoni, dei Già Un'ottimo Andarei Meccanici, sto leggendo di più le opere di Bolelli, di Franco Bolelli che dice un cambio di una vocale che può essere radicale, dalla O alla E, cioè non è che c'è o quello o quell'altro, cioè è quello e quell'altro, mi sembra che... Dobbiamo smentire quindi Arminio, non sottrarre ma a volte aggiungere. Sì, anche a volte aggiungere, ma infatti io lo smentisco sempre, Franco, sono sempre in polemica, qualsiasi cosa lui dica non ammetterò, cerco sempre di creargli l'idea che c'è un altro punto di vista, spesso discutiamo amabilmente. Ed è l'unico modo secondo te di avere una vera e profonda amicizia? Beh, certo, non solo di avere una profonda amicizia, è proprio un atto d'amore secondo me, mettere in attrito l'altro. Ultimamente nel nostro ambito, e io purtroppo sono caratterialmente poco incline all'attrito, nel senso che sono stato educato e per mia indole tendo a sfuggire dalla discussione animale. Ti sei definito grande mediatore da sempre. Sì, grande mediatore, comunque ho la tendenza ad accorpare, a mettere insieme, piuttosto che allo scontro, ecco. Però mi rendo conto che questa attitudine, che è molto forte nella mia generazione, sicuramente, spesso parlo con artisti di generazioni passate, i quali si lamentano proprio di questo fatto, che noi un po' siamo tutti a darci le pacche sulle spalle, mentre in passato, almeno gli aneddoti che mi sono stati narrati, raccontano anche gli scontri fra artisti, fra colleghi, fra giornalisti e artisti, il pubblico con l'artista, e quindi penso che se è sano e non è semplicemente velleitario o polemico, giusto perché uno deve essere bastiano contrario, è molto interessante ed è di grande crescita per tutti, se io ti porto un mio punto di vista. Beh, c'erano a genere Incroci e Furio Scarpelli, due dei più grandi sceneggiatori dell'epoca d'oro del cinema italiano, in un albergo di Roma, da un certo punto oltre la porta si sentono dei vaffanculo da competizione, delle urla, sembra che le persone si stiano accapigliando e allora un inserviente dell'albergo, bussa, preoccupatissimo che si stia consumando un delitto, aprono e un po' come non riesco a spiegare a mia moglie che sto lavorando mentre guardo fuori dalla finestra, apre e age la porta e dice stiamo solo lavorando. No, cioè c'era lo scambio, effettivamente lo scambio di idee. Torno alla pigrizia perché hai sceltato Jerome, tu hai detto, ti sei dipinto come un campione di pigrizia all'inizio di questa intervista, hai detto, scrivo un disco ogni quattro anni, poi ammantando questa scelta appunto del rigore che serve per far uscire una bella canzone, ma non hai scelto quello che proprio ti sarebbe appartenuto in fondo più di tutto il resto, cioè l'eremitaggio, no? Perché fai un mestiere in cui in fondo sei purtroppo sottoposto al giudizio altrui. Cos'è questa, se non è una contraddizione? Beh, sicuramente è una contraddizione, meno male, viva Dio, no? Spesso ho avuto la tentazione del ritiro nella mia vita, perché comunque sono molto attratto e anche perché forse storicamente mi porto dentro una calabresità che comunque è terra di eremiti, soprattutto nel periodo bizantino, ma anche attualmente ci sono tanti eremiti. È una terra proprio fatta apposta per l'eremitaggio e non lo scopro io. Quindi sicuramente questa tensione c'è, però proprio tornando all'idea del E-E, ho sempre pensato invece che fosse naturale e anche in qualche modo una grande ricchezza poter fare questo mestiere proprio perché mi trascinava fuori dalle mura. Non solo mi trascinava fuori dalle mura, ma mi trascinava anche fuori dal ruolo di semplice osservatore, che mi piace moltissimo. Cioè quello che soffro oggi è che via via che le cose sono andate un po' meglio da osservatore sono diventato osservato e quindi forse rimango in Calabria perché ancora questa cosa mi preserva dall'essere sempre in contesti di lavoro dove magari, capito, sono più Brunori Sass che non Dario Brunori e ciò non toglie che in alcuni casi la città quando la vivo, quando vengo a Roma, quando vado a Milano, in realtà soprattutto a livello in cui sono io ti rende molto più anonimo e quindi capace di guardare, di osservare e mi piace molto il contatto con gli esseri umani altrimenti non farei quello che faccio non scriverei quello che scrivo quindi in realtà sono molto felice per tanto tempo ho sofferto questa condizione mi sembrava di non aver operato una scelta di essere in un limbo con un piedino di qua un piedino di là invece forse ho capito negli ultimi tempi che proprio è la mia natura e che tra l'altro è la cosa più giusta da fare rimanere con un piedino di qua un piedino di là senti da ragazzo raccontavi in un'intervista del 2017 eri quello sempre col maglioncino la camicia chiusa all'ultimo bottone con il sacrilego lusso di non farsi piacere il calcio che è una cosa che come racconta Verzi determina i destini del giovane che diventerà uomo quando parlavi a casa tua si parlava l'italiano e non il calabrese ogni tanto per strada ti dicevano nel paese Bruno non fare tanto è filosofo però vorrei che tu me lo ridicessi in calabrese Bruno un pao filosofo questo succedeva proprio alle scuole medie perché avendo mio padre che era originario di Bubano vicino Imola a casa giustamente per non escludere il padre soprattutto si parlava in italiano non che poi non si parla perché mia madre comunque è di cosenza si parlava anche il dialetto soprattutto come tu ben sai il dialetto viene fuori nei momenti critici che per una mamma con tre figli erano abbastanza comuni quindi ogni tanto chiaramente si parlava anche il dialetto però tendenzialmente eravamo stati educati a quel tipo di approccio linguistico cosa che ovviamente creava una distanza tanto che me l'hanno detto che poi a un certo punto probabilmente la mia attitudine cioè ho interiorizzato è diventata filosofica è diventata filosofica perché ho interiorizzato quello che per loro comunque era un epiteto non bello in qualcosa di no l'ho convogliato in qualcosa di bello quindi sicuramente quell'approccio me lo sono portato dietro e sì è stata comunque la mia è stata sempre un'attitudine di grande timidezza verso la quale ho cercato sempre una reazione quindi ho sempre cercato di infilarmi anche con grande difficoltà emotiva tormenti di stomaco e di ansie però sempre sono andato verso quella direzione cioè la direzione che mi metteva in difficoltà perché sapevo che se avessi accarezzato soltanto la mia parte di no mi sarei probabilmente negato delle cose della vita mi sarei di tratto troppo quindi ho sempre affrontato facevo per dire heavy metal mi piaceva suonare la chitarra elettrica ecco la chitarra per me prima ancora della scrittura perché poi ho cominciato a scrivere tardissimo non avevo proprio idea di poter scrivere per me la chitarra la musica sono stati proprio l'elemento di mediazione con il mondo intorno con i miei coetanei però cercavo no senza rinunciare comunque a quella che era la mia identità quindi non mi sono mai per dire vestito con le maglie dei Megadeth o dei Sepoltura ed era molto bello vedermi sul palco mentre facevamo che suonare Enter Sandman dei Metallica e c'erano tutti i miei musicisti e le persone che suonavano con me che avevano capelli lunghi e io ero comunque con la camicina e con mamma che ogni tanto mi veniva a toccare la schiena per vedere se stavo sudando col borotalco senti i tuoi fratelli erano più estroversi ma diciamo che io sono sempre stato visto come estroverso a casa cioè come il simpaticone mi sono ritagliato questo ruolo proprio perché per sfuggire a una serie di anche incombenze che penso che tutti i figli piccoli abbiano rispetto ai figli più grandi che erano invece via via sono fatti su due ingegneri sono due persone brillanti bravi a scuola e quindi chiaramente in particolar modo Alessandro il mezzano con cui sono più vicino di età e Alessandro era ed è anche attualmente però da piccolino era un po' no il primo della classe se c'era una recita presentava lui era il cocco della maestra è pesantissimo peraltro essere figli di un insegnante perché tua madre insegnava musica devi andare bene per forza no sbaglio prendi venditti in realtà mamma ha un'attitudine incredibilmente libera da questo punto di vista cioè sarebbe stata perché poi in realtà ha smesso di insegnare quando siamo nati noi che è una parabola molto comune in quegli anni e io dico anche con dispiacere perché secondo me sarebbe stata una grande insegnante soprattutto perché di fondo è uno spirito libero molto indisciplinato per certi aspetti quindi avrebbe comunque a noi ci ha sempre indicato delle strade di certo rigore per quanto riguardava i risultati però anche di ribellione a dei sistemi troppo non era non è stata mai una mamma rigida dal punto di vista dell'istruzione della scuola ci teneva molto però ci ha sempre dato anche un contraltare ma ci ha sempre spinto anche a non seguire rigidamente il protocollo perché pensavo perché pensavo Dario che quel passaggio dell'età è veramente un crinale sottilissimo tu sei 7, 8, 10 anni a un bivio o scegli di uniformarti di essere esattamente come gli altri per essere accettato quindi non mostrare diciamo la tua individualità in fieri oppure sei destinato a stare da solo perché sei quello strano è un passaggio identitario molto complesso perché è chiaro che gli altri ricerchi ma a quale prezzo ma questo è un po' un tema che vale non solo a 6, 7, 8 anni secondo me ed è una cosa su cui le persone si devono interrogare sempre cioè il rapporto fra il desiderio di comunità e quindi di non sentirsi soli in un determinato contesto e il desiderio comunque di preservare la propria individualità all'interno della comunità io almeno per quanto mi riguarda la mia esperienza personale la mia individualità cioè ciò che sentivo di essere sono riuscito a tirarlo fuori proprio grazie alla scrittura chiunque mi abbia conosciuto prima del primo disco di Bruno Risass probabilmente poteva sospettare sicuramente sapeva conosceva la mia grande passione per la musica perché ho sempre suonato però era insospettabile per esempio un certo tipo di sentimentalismo chiamiamolo così di pathos o semplicemente di tensione emotiva che io ho tirato fuori con le canzoni perché difficilmente nella mia vita quotidiana e sociale io tiro fuori quel lato tant'è che mi viene molto difficile gestire alcune alcune relazioni con le persone che chiamiamoli ammiratori perché chiaramente loro si riferiscono alla canzone come dice De Gregori guarda che non sono io si riferiscono alle canzoni e io invece nel mio quotidiano la mia maschera sociale è quasi scevra da tutto l'aspetto che invece metto nelle canzoni quindi penso che alla fine si colmi quel gap fra quello che sei interiormente e quello che sei socialmente proprio per mezzo e per tramite dell'arte della scrittura della canzone della musica tiri fuori quella cosa tant'è che molto spesso persone autori o comunque colleghi con cui ho a che fare mi dicono mi comunicano che per esempio il palco è uno dei posti in cui si sentono realmente liberi e anche io mi sento realmente libero sul palco perché è un contesto in cui sono autorizzato e mi autorizzo a essere io non sapevo tra l'altro forse te l'ho raccontato una volta che ci siamo visti che tu fossi una delle persone più simpatiche che conosco più autoironiche più ironiche in assoluto prima di parlarti di persone e di vederti sul palco e di vederti in una vecchia trasmissione che facessi su Re3 perché nell'inedito e peraltro bizzarrissimo ruolo di conduttore perché nelle interviste non riuscivo a capire chi fossi era molto difficile leggere è sempre una questione di tono sei d'accordo su questo? assolutamente sì se tu dici una cosa sulla cupola di San Pietro che vediamo in questo momento nella parola scritta te la ritrovi sempre anodina sempre senza appunto interpretazione e quello rende difficile leggere chi sei dall'altra parte è vero che oggi come spesso sta capitando ultimamente questa cosa diventa una problematica al momento in cui non solo non c'è la lettura dell'articolo ma quindi c'è proprio il discorso soltanto della lettura del titolo che spesso è un virgolettato che estrapola e sintetizza dei concetti ma non è neanche quello che tu hai detto nelle esatte parole quindi non solo nel tono non sono neanche le esatte parole molto spesso quel virgolettato diventa quello che tu pensi e quello che tu dici agli occhi di tante persone questa è una grande problematica e poi ci vorrebbero interviste d'ario lunghe come quelle che faceva Enzo Biagio Paolo Flores d'Arcai su Micromega 50.000 battute 20 pagine in cui effettivamente il tuo pensiero viene rappresentato perché la sintesi è sempre estrema parliamo di sintesi se io dico Armani a te cosa viene in mente? Armani.it vuol dire Armani.it è stata la mia tesi di laurea in economia e commercio molto sintetica tant'è che mia madre e mio padre pensavano fosse un imbroglio si sono andati a accertare perché era uscita la possibilità a un certo punto io non ne potevo più di questa facoltà di economia e commercio che veramente ecco lì ho detto se ce la faccio a fare questo posso fare tutto nella vita perché gli ultimi anni sono stati penosi benché fatti con grande cioè non mi sono mai lamentato con i miei ma veramente difficilissimo è uscita fuori la possibilità a un certo punto proprio per gente come me forse proprio per me l'hanno fatto all'università di Siena e diceva vabbè mandiamolo via Brunori di fare la tesina quindi potevi farlo prendendo ovviamente meno punti per cui io subito mi sono lanciato su questa tesina in cui era più grande la rilegatura dei fogli interlinea 12 ed era sul caso Armani.it uno dei primi casi di appropriazione di nome a dominio in cui questo povero Armani che era un architetto ora non mi ricordo neanche più tra l'altro si era preso il sito il dominio www.armani.it e giustamente Giorgio Armani dal suo punto di vista diceva no questo è mio però quello è si chiamava pure Armani e l'aveva preso prima quindi io mi infilavo in questa diatriba dando ovviamente ragione per mia natura cristiana a quella che era la parte debole in quel punto in quel momento senti a parte il genio di fare una tesi diciamo che nulla c'entra con economia e commercio con i numeri e con gli algoritmi economici come ti venne in mente di andare a Siena e quanto fu difficile convincere i tuoi genitori tuo padre figlio di suo padre che era arrivato a importare diciamo re degli alto forni come hai raccontato una volta a importare la lavorazione dei laterizi e dei mattoni nella Calabria degli anni 50 avrebbe voluto che tu facessi parte della Bruno Risas società in accomamare tra semplice che si era insediata e strutturata in Calabria e invece tu non avevi nessuna intenzione di lavorare con i mattoni sì non avevo nessuna intenzione anche perché io ho sempre avuto grande difficoltà a prendere decisioni nette perché come dicevo prima la mia è sempre stata una natura accomodante anche perché non ero mai sicuro io non so quando ti dicono quando è che hai capito che volevi fare il cantante non l'ho mai capito sono accadute una serie di cose e forse c'è anche penso un'intelligenza o una coscienza o una parte di te che comunque si muove a prescindere da te e che poi ti fa andare in una determinata direzione io lì per lì a Siena ci sono arrivato sempre per la musica quindi partiamo da questo presupposto io volevo fare una scuola essendo amante della chitarra elettrica avevo studiato nella piccola guardia piemontese su un libro che era di Giacomo Castellano chitarrista rock metal italiano turnista bravissimo e lui insegnava a Fiesole in questa accademia la Lizard per cui io volevo andare alla Lizard volevo utilizzare l'università come pretesto per stare lì perché mi immaginavo chitarrista il mio desiderio era suonare come che fare il lavoro di musicista come chitarrista per cui decido di questa cosa in Toscana i miei invece mi dicono guarda però a Firenze non conoscevo nessuno a Siena ci sono amici di famiglia e quindi io come sempre dico vabbè già che mi fanno fare questa cosa perché io non ho dato per scontato che loro fossero aperti quindi vivevo questa cosa non dico come una colpa questa mia passione ma comunque mi sembrava ragionevole il loro approccio e quindi vado a Siena tento di entrare a Siena della Comunicazione che mi sembrava la facoltà non me ne vogliano quelle scelte in cui poi avrei potuto fare di meno cavandomela con la mia con la mia dialettica e con la mia eloquenza con il mio eloquio però invece mi bocciano e quindi vedo fra le varie facoltà quali erano quelle in cui c'erano esami in comune e c'era economia che potevo fare quattro esami e poi eventualmente riprovare a fare Siena della Comunicazione poi è passato un anno mi sono trovato gli amici mi sono dimenticato che volevo fare Scienza della Comunicazione e ho continuato a fare Economia e Commercio in questi anni senesi tu fai melodie per i cartoni animati delle tv locali vorrei sapere se ne ricordi qualcuno se erano solo suonate o anche parlate no non erano per le tv locali è per attenzione per la Rai sì me le ricordo per esempio una era sono Gino e te lo dico sono Gino e te lo dico sono un pollo troppo fico è una cosa del genere che è una mia hit te la puoi andare a trovare su youtube che era Gino il pollo perso nella rete che era diventato celebre era uno dei primi contenuti virali dell'internet degli albori che era Gino talebano te lo ricordi tu vuoi fare talebano che era questo pollo che faceva prendeva in giro Osama Bin Laden ed era una creatura di Andrea Zingoni dei giovanotti mondani meccanici questo gruppo di geniacci fiorentini degli anni 80 che avevano inventato in Italia gli avevano portato il fumetto il primo cyber fumetto fatto coi computer Andrea poi aveva cavalcato da subito internet e aveva creato questo personaggio che da internet è stato uno dei primi casi di crossover poi verso la televisione di una cosa nata su internet io per mia fortuna ho avuto mio fratello sempre Alessandro che era un grandissimo nerd e mi aveva detto guarda che col computer tu ci puoi fare musica e io come sempre ma no tradizionalista ma che sto computer io suono non le voglio fare le cose col computer non è che sono al piano bar ma questo solito snobismo da ignorante invece lui mi insiste mi fa cominciare a lavorare col computer capisco che il computer non voleva dire musica elettronica e basta ma che si poteva veramente registrare un disco col computer primi anni del 2000 e intanto entra in gioco la rete cominciano a uscire fuori i forum per cui io grazie ora la faccio breve grazie a questo movimento tecnologico quindi io devo ad internet incredibilmente rispetto a quello che si può pensare di me io devo ad internet e a quei cartoni animati le mie prime esperienze musicali cioè ho cominciato a fare il musicista di mestiere perché in un forum ho conosciuto tutte le persone che poi lavoravano a questo cartone animato ho messo su delle cose che avevo fatto questi mi hanno chiamato e io da Siena ho cominciato a lavorare con queste società che erano fra Como e la Svizzera abbiamo fatto cartone animati abbiamo fatto Gino il pollo Arturo e Kiwi abbiamo fatto Galacticos adesso ne esce un altro sempre per Rai a Fiesole a Fiesole ci ho messo piede poi a Fiesole si ci ho messo piede però dopo un anno e mezzo sono scappato perché comunque era a scuola non me ne vogliano di chitarra era come una palestra era tutto sulla velocità sulla tecnica mentre io chitaristicamente ho capito lì che la mia strada musicale non era sullo strumento anche perché ho preso lì un altro bagno di umiltà perché io al mio paese mi sentivo capito Gio Satriani mi sentivo un Aldimeola e invece lì ho visto che c'erano ragazzini più piccoli di me che erano dei mostri chitaristicamente parlando ti sentivi Reuccio tu sì certo Guardia Paola nelle mie zone comunque ero il chitarrista quello che sapeva fare gli assoli delle canzoni famose ma arrivato lì invece a Fiesole ho trovato gente che capito anche più giovane di me 15-16 anni ho detto ma non aspetta un attimo poi era molto a vocazione anche se le persone i mestri erano di buon gusto però era chiaramente una cosa tecnica perché dovevano preparare a un mestiere comunque avresti dovuto suonare dalla Fuscio al jazz e quindi io lì ho capito che non era il mio e ho abbandonato e mi sono buttato sia sui cartoni animati che sulla musica elettronica veramente ho fatto un paio di anni di minimalismo in cui l'ho detto spesso siccome facevamo roba tipo i mum l'amor music con un gruppo di Santa Croce sull'Arno e allora io dico sempre era come se Albano fosse andata a suonare con i Sigurros mi vedo così evidentemente gli emolumenti non erano così pingui perché tu però alla carriera da rimatore per i bambini con questo crossover tra rete e televisione aggiungevi quelle di parcheggiatore vorrei che beh certo è chiaro che fossero delle cose estemporanee ma che soprattutto a un certo punto siccome è chiaro che mio padre a un certo punto diceva preso la laurea in economia e commercio la musica sì però la puoi fare anche da giù se la devi fare così lui non si spiegava perché io non volessi andare insomma a proseguire quella che era l'attività e quindi anche per emanciparmi ho provato a lavorare con la laurea ma all'epoca penso ancora di più oggi era molto difficile andare a lavorare con una laurea perché non li volevano i laureati quindi preferivano i diplomati e che noi rompevamo molto le scatole evidentemente e quindi a un certo punto romanticamente trovo questo lavoro di parcheggiatore perché una di un'agenzia interinale non mi ricordo quale fosse mi dice ero come che mi spesi quando va a lavorare mi dia il lavoro col minor cumulo di responsabilità possibile io invece mi dia qualsiasi lavoro faccio qualsiasi lavoro perché ho bisogno di emanciparmi dalla dipendenza familiare e quindi mi proposero questa cosa io chiesi i turni notturni perché mi sembrava molto romantico dice io vado a fare il parcheggiatore di notte da mezzanotte alle sette mi vedo film mi leggo libri compongo mi posso portare magari anche la chitarra perché noi stavamo in un bugigattolo invece poi si è rivelato una tragedia perché i primi tre quattro giorni ero felice poi è diventata una fatica incredibile avevo due occhi enormi avevo scambiato la notte per il giorno però anche lì stavo facendo carriera poi stata diciamo la morte di mio padre ha stoppato questo periodo che è durato un anno e mezzo quando è morto mio padre mi avevano appena nominato supervisore alla Siena parcheggi cioè chissà avrebbe potuto essere una carriera importante ma donna vedi quella sliding doors magari potevo essere il responsabile dei parcheggi per la Toscana facciamo un passo indietro Dario e mi racconti questa storia veramente un po' letteraria dell'arrivo della famiglia di tuo padre in Calabria negli anni 50 anche per inquadrare il lavoro a cui tuo padre avrebbe voluto tu ti applicassi e che poi appunto il destino ha fatto sì che per un certo tempo ti dovessi applicare veramente e quindi volevo che me la raccontassi nel 58 o 57 perché alcune voci sono discordanti sto cercando di recuperare quella vera ma comunque poco importa alla fine degli anni 50 mio nonno Luigi che era un esperto un tecnico di altiforni per laterizi viene chiamato in Calabria in questo piccolo paese io oggi che non aveva nulla era proprio nel più grande stato di arretratezza ma aveva una grandissima cava di argilla di un'argilla che comunque i locali consideravano una delle migliori di argilla per le costruzioni che al momento fino a quel momento erano fatti in forni a legna in maniera artigianale da noi si facevano cioè quando sono arrivati c'erano soprattutto i ceramili cioè le tegole che ancora oggi si fanno e i mattoni pieni queste erano le due cose che avevano fatte artigianalmente quindi arriva l'industrializzazione con questo mito che poi è andato per lo più male in Calabria lo racconta benissimo De Seta in Calabria che io consiglio a tutti di vedere sia i dimenticati che in Calabria sono due documenti incredibili per capire la Calabria e lì mio nonno arriva e trova chiaramente il bello e il brutto di una situazione di mi diceva mio zio romano perché di questo parlavo spesso con il zio romano mi diceva che è il fratello mio padre mi diceva quando sono arrivato la prima volta in Calabria la sensazione il mio primo pensiero è stato proprio che mai avrei immaginato che in Italia ci potesse essere ancora quel grado di arretratezza quindi loro trovarono la gente che stava nelle case di paglie e fango e situazioni ancora di latifondo e di comunque padronato inimmaginabile addirittura mio zio poi non so quanto fosse una sua perché era molto pittoresco nei racconti quindi non so se fosse anche un modo per esasperare però mi diceva che addirittura ancora c'erano gli us primi e noctis negli anni 60 nelle zone in cui loro stavano e quindi hanno trovato questa situazione e però alla fine mio nonno è rimasto perché serviva questa figura e si è portato dietro la famiglia mio padre che arriva a diciottenne con la macchina perché già lui lavorava trova questo posto che appunto era arretratissimo ma anche in qualche modo lui lì si è sentito un po' il reuccio un po' Robinson certo si è andato lì poi mi diceva che comunque era il forestiero un bel ragazzo per cui ha contato anche quell'aspetto lì che aveva storie d'amore relazioni e quindi da lì è rimasto in Calabria anche con suo fratello con Romano e con Pia e hanno costruito questa grande azienda di mattoni che ancora adesso ne è rimasto ben poco che poi ci siamo spostati sul mare però è stato un elemento fondante proprio della nostra famiglia cioè ci potrei veramente e un giorno mi ha detto che non lo faccia scrivere comunque perché è stato qualcosa di incredibile anche proprio per la stranezza di questa emigrazione al contrario mentre tutti salivano su loro sono scesi giù e hanno anche tra l'altro portato una sorta di ibridazione della mentalità anche imprenditoriale cioè io sono così penso anche in virtù del fatto di aver vissuto due culture che per molti aspetti si toccano ma per molti aspetti sono agli antipodi e comunque quello che tu dici nel suo periodo maoista conservire il popolo Marco Bellocchio scende in Calabria nel 71 72 gira delle immagini forse proprio anche a Paola bellissime anche i calabresi hanno realzato la testa mi pare che si chiama il documento bellissimo bellissimo e effettivamente c'è il bracere al centro del salone cioè c'è una situazione di retratezza perché effettivamente fino ai moti di Reggio Ciccio Franco e tutta quella grande battaglia eterodiretta politicamente del 70 Giovanna Marini canta dei treni per Reggio Calabria ma insomma voglio dire la Calabria è un po' considerata come la Sardegna degli anni 60 il temibile grido ti sbatto in Sardegna cioè sono zone oggi impensabili però effettivamente pensare che un emiliano che vive nella regione più avanzata d'Italia insieme alla Lombardia decide di trasferire il bagaglio in Calabria è un materiale romanzesco hai ragione scrivilo bravo come sei sto cercando di reperire le più informazioni possibili perché poi comunque per esempio mio padre loro la cosa interessante è che non hanno mai vissuto questo aspetto come un aspetto romantico cioè mi sembrava che per loro fosse abbastanza normale quello che era accaduto certamente erano erano molto vivi e vivi i racconti legati proprio a questa anche al fatto che loro non riuscivano a capire l'affezione che alcune persone avevano per esempio rispetto ai padroni storici nel senso che mio zio spesso perché poi mio padre si occupava della parte commerciale mio zio era invece la parte diciamo più dirigenziale quindi si doveva occupare anche dei lavoratori e spesso scopriva che questi operai arrivavano stanchi morti già la mattina a lavorare perché erano comunque costretti ad andare a lavorare nei campi di notte quindi magari si svegliavano alle due e alle tre andavano a lavorare dall'equo quindi mio zio doveva andare dai vari padroni che non erano poi tra l'altro tantissimi a chiedere di rispettare il fatto che questi stessero lavorando per loro sia per scopo egoistico sia anche per scopo proprio umano perché comunque loro erano cresciuti con un'altra visione anche del lavoro magari per carità paternalistica con tutti i suoi difetti il nonno aveva lavorato per Moratti padre erano comunque in un filone di idee imprenditoriali olivettiano olivettiano sì anche per le scuole hanno fatto aprire le scuole gli asili nel paese c'era questa idea qui e però loro non capivano e io questa cosa per esempio mi incuriosisce adesso sto approfondendo visto che abbiamo preso il tema uno dei epiteti mi diceva un professore calabrese che si occupa di storia calabrese del medioevo diceva che uno degli epiteti fino alla fine del settecento peggiori era spatronato cioè che poi è diventato spaturnato cioè persona senza padrone tant'è che lui mi diceva che essendo lui un esperto di tattiche di guerra gli spagnoli spesso per conquistare nuove terre utilizzavano come scamotaggio quello di andare dalle classi subalterne del sottopraletariato comunque da quelli che erano gli schiavi chiamiamolo così il sottopraletariato già erano proprio schiavi i servi andavano portando le istanze stimolandole alla ribellione verso il padrone promettendogli condizioni migliori perché stiamo parlando di una terra dove i padroni facevano la tassa sull'acqua piovana la tassa sull'ombra c'era per i poveri e comunque mi diceva i calabresi non tradivano il padrone nonostante questo e questo spiega molto del popolo e spiega anche molto di alcune dinamiche che per i miei genitori erano incredibili devo dire molto interessante la tassa sull'ombra non l'avevo mai sentita sì sì ora guarda io quando sento queste cose mi viene sempre da solito perché chiaramente cerco di capire questi documenti perché abbiamo pochissimi ma anche documentazione per lui di lui mi fido molto perché è un grande ricostruttore di storie e anche uno che vuole cambiare le storie quando non sono per lui vere quindi penso e credo che sia proprio vero questa della tassa sull'ombra anche tu ti sei trovato a ricostruire in qualche modo la tua storia familiare e il passato nelle canzoni in seguito ad un evento traumatico ti telefono tua zia tu sei a Siena nella bambaggia non pensi assolutamente di tornare tu capisci che già qualcosa non va perché tua zia ti dice che tuo padre non sta bene e tu capisci subito in un istante che se tuo padre avesse solo un lieve problema di salute ti avrebbe chiamato tua madre è nata così no? sì certo no ho capito subito che babbo non c'era più perché sarebbe stato impossibile il contrario l'idea che mi aveva chiamato zia era proprio ok non c'è più ovviamente dentro di te siccome il viaggio è stato da Siena in Calabria quel viaggio è lì me lo ricordo come un viaggio con una lieve speranza però è anche vero non voglio entrare adesso in una sorta di irrazionalità che non mi appartiene però è anche vero che quando ci sono certi distacchi al di là di tutto è come se le avvertissi a prescindere ed è stato un momento scioccante scioccante perché io comunque sono stato sempre un po' naif da questo punto di vista non ho mai pensato veramente alla morte nonostante ce ne fossero state tante perché mamma è di famiglia numerosa ultima di 12 figli e quindi ne sono capitate come accade sempre nelle grandi famiglie però probabilmente la mia natura che è sempre stata una natura forse di protezione dal dolore non l'aveva mai ricevuta così direttamente e in quel momento in cui io stavo appunto vivendo una sorta di limbo tra l'idea di fare il musicista e una realtà che stava andando appunto nella direzione di diventare supervisore di parcheggi è stato uno shock uno shock perché però appunto io tendo sempre a definire necessario parla battiato di shock addizionale rifacendosi a Gurgi effetto quello è stato proprio uno shock addizionale cioè qualcosa che mi ha spostato in un punto di incaglio da una condizione ad un'altra in modo molto doloroso in modo molto forte però mi ha fatto prendere consapevolezza di tante cose innanzitutto delle mie priorità del tempo e quindi del fatto che la mia naturale propensione alla procrastinazione la dovevo un attimo limitare quindi dovevo sbrigarmi ma non è stato così tutto consapevoce istintivamente all'inizio sono tornato e chiaramente forse per senso di colpa mi sono messo a fare quello che babbo avrebbe sempre desiderato quindi ho preso in mano le redini dell'azienda con grandissima difficoltà con grandissima agitazione d'ansia perché come tu puoi immaginare da quello che ho raccontato lui era l'azienda quindi io mi sono trovato anche a parlare con persone che a un certo punto mi chiamavano Bruno come lui come lui e io stavo anche al gioco incredibilmente forse proprio per una sorta di naturale senso di colpa e questa cosa chiaramente ha funzionato su due fronti da una parte ho cominciato veramente a prendere consapevolezza del reale e mi è servito per la scrittura mi è servito per la crescita mia personale quindi quel primo album è frutto di quella cosa lì e quindi sono grato in qualche modo a questo evento tragico perché mi ha dato la possibilità veramente di definirmi e dall'altra comunque sono entrato in una visione delle cose che penso poi di aver sempre confermato nel corso dei rischi seppur con forme diverse cioè comunque una ricerca del vero dell'autentico e del metabolismo del dolore di come uno può metabolizzare il dolore attraverso la parola il canto eccetera eccetera quindi una mia attitudine blues che è emersa prepotentemente perché per me ha funzionato e quindi è come se io continuassi a dire se questa medicina se questo balsamo preferisco definirlo così ha funzionato per me devo restituire questa cosa agli altri sperando che quello che faccio in qualche modo sia di aiuto e quindi anche adesso magari le persone alcuni amici stronzi mi dicono ma che ti manca ma a te che devi cantare ma canta canzone stai bene guarda hai avuto pure successo e io mi mettono anche in crisi perché chiaramente quando poi ti trovi in una condizione in cui tu personalmente hai raggiunto una certa tranquillità e serenità e gioia che per carità è bellissima e che mi piacerebbe anche saper cantare e che provo a cantare però la mia tensione rimane sempre verso un canto che non si dimentichi dei momenti come ho detto all'inizio di questa chiacchierata anche delle ombre non solo delle luci comunque un po' come dalle finestre di questa giornata non ancora autunnale ma neanche più estiva entrano le sirene di una città come Roma per te arriva una sirena una volta è definito in un'intervista un motore ed è strano definire un dolore come motore per accendere tutta la realtà che ti hai rinnegato fino a quel momento e a quel punto devi muoverti e però questa cosa da un lato sublima il vecchio risiede di tuo padre quindi ti fa mettere tra le bolle di consegne le fatture e le ricevute della Bruno Risas ma al tempo stesso accendo un ricordo e ti metti a scrivere io ho la sensazione d'aria ascoltando le tue canzoni che tu non scriva mai per gli altri cioè in un certo senso che quel miracolo di cui parlavamo all'inizio in mirisimazione piacere nel ritrovarsi a pensare ad alcune grandi verità poste in modo giocoso perché una volta hai detto giocare è tutto la cosa più importante avvenga come dire senza un calcolo ecco cioè non ho mai l'impressione quando ascolto un tuo pezzo di una costruzione del consenso che processo c'è quando scrivi una canzone allora anzitutto questo mi conferma che sono bravissimo ad imbrogliare quindi ci sei cascato anche tu do l'idea di essere uno che non fa calcoli mentre tutto la mia attitudine è solo a scopo di marketing quindi va bene funziona se funziona con te che comunque uno sguardo attento vuol dire che funziona con tutti beh no il mio processo di scrittura mi chiedevi scusami perché io quando voglio fare le battute a un certo punto mi scatta la cosa che devo fare la battuta quindi mi perdo poi quello che dicono sì il mio processo di scrittura è cambiato nel corso del tempo anche perché inizialmente non mi autorizzavo l'idea non mi sono autorizzato per tanto tempo e ancora faccio fatica ad autorizzarmi l'idea che io sia un autore quindi non le scrivevo all'inizio le canzoni proprio anche da un punto di vista materiale cioè pratico erano tutte nella mia testa non le scrivevo su un foglio le scrivevo al computer questo chiaramente ha i suoi pro e i suoi contro i suoi pro perché ho sempre avuto l'impressione che alcune cose funzionassero proprio perché le cantavo da subito c'erano subito era subito parola cantata e quindi questo mi aiutava a costruire subito le canzoni senza particolari forzature da un punto di vista di metrica erano già musicali dall'altra avevo il limite di chiaramente non avere magari un lavoro di cesello quindi molto spesso scrivevo veramente così di getto e difficilmente correggevo delle cose il che si nota da centricionità però aveva anche quella forza lì la forza della prima intuizione nel corso del tempo la cosa è cambiata cercando in questi ultimi tempi soprattutto veramente in questi ultimissimi mesi che sto scrivendo roba nuova l'idea di non cadere più in alcuni cliché che magari mi hanno caratterizzato c'è il senso anche questa cosa dell'autentico anche questa cosa che tu sottolinei e mi fa piacere di canzoni che non nascono mai pensando che faccio così e cosà però poi inevitabilmente nel corso del tempo se non lavori su te stesso e quindi anche la scrittura alla fine è come dire una prosecuzione di te è chiaro che quella cosa può diventare anche un'arma a doppio taglio cioè continuare a lavorare solo in una direzione la direzione dell'ispare dell'ispirazione genuina dell'intuizione che ti arriva subito del racconto sempre che parte dal vero e quindi sto cercando un po' anche con l'ausilio di altre persone ovviamente con cui collaboro di spostarmi dall'idea che io di me stesso o anche magari da alcuni tic alcune abitudini che nel corso del tempo facendo questo mestiere possono diventare un accomodamento e parlo di abitudini musicali così come di abitudini proprio testuali o canore perché poi si parla di tutti questi livelli messi insieme quindi magari ormai so che se mi appoggio a un certo tipo di armonia o se mi appoggio a un certo tipo di tematica o semplicemente se canto in un modo o in un altro ottengo un certo tipo di effetto e lo so anche inconsapevolmente quindi la sfida a un certo punto secondo me è cercare di non per forza rivoluzionarsi però rigenerarsi sì ecco e quindi adesso sto scrivendo proprio anche comincio a scrivere comincio ad utilizzare una sorta di abitudine diversa alla scrittura che prima non avevo ho grande difficoltà perché non sono come Woody Allen ti ricordi che lui racconta nella sua biografia molto bella devo dire Navely Teseo non mi ricordo forse solo col suo nome dice che lui gli dicevano sempre di notte se è attraversato da pensieri apparentemente illuminanti li devi scrivere su un foglietto in uno stato quasi ipnotico e poi la mattina li ritrovi però lui la mattina li ritrovava e li trovava esiziali quindi in fondo la mitologia il grande sport degli italiani che è riscrivere le proprie biografie anche con Allen funzionava molto bene io ultimamente sto usando molto devo dire il cellulare dal punto di vista della nota audio sono convinto anch'io che il dormiveglia o comunque quel momento in cui il cervello si pone in una condizione di minor controllo fa emergere delle cose però pure io mi trovavo a rileggere queste cose scritte sulla nota testuale che poi ti addormenti dicendo mamma mia che meraviglia ce l'ho fatta domani mattina continuo ed hai fatta la canzone poi la ritrovi nella cosa e invece poi con la nota audio alcune cose mi aiuta a capire se è quella roba lì perché io poi la dovrò cantare e quindi la mia fortuna così come può essere anche la Croce Delizia è che se quella roba lì la canti è vero che può acquistare una forma diversa e anche una ricchezza diversa che magari Letta non ti dà senti parlando varie volte con Francesco Gregori mi sono trovato di fronte alla biura rispetto a pezzi secondo me magnifici che lui ha scritto all'inizio della sua parabola artistica e che lui disconosce canzoni come Bene canzoni come la stessa Donna Cannone ecco cioè la disconosce nella misura in cui dice quel testo se non fosse cantato sarebbe probabilmente banale mi pare di aver letto una cosa del genere e comunque lui dice non solo rifiuta totalmente l'attribuzione poetica cioè il poeta è un poeta a volte una brutta creatura come cantava in una vecchia canzone ma sicuramente io non lo sono altre volte il testo è troppo verboso troppo ricercato troppo criptico troppo metaforico quando tu riascolti i tuoi primi dischi cosa pensi davvero a parte l'ingenuità di cui mi hai detto prima io invece penso che siamo tutti dei capolavori anzi anzi devo dire che acquisiscono valore più li ascolto più dico mamma mia ma quanto sono bravo e funzionano sempre scritti letti cantati non letti cioè sono i primi testi che anche se uno non li legge che li vede da lontano sono belli comunque per come li vedi sulla pagina cioè proprio la forma che prendono non so neanche che c'è scritto perché da lontano non leggo bene però è meraviglioso già solo vederlo così senti per far affrasare la verità un capolavoro tuo tu le palle per rischiare di diventare quello che ti pareva che volevi essere alla fine le eute per vie strane traverse ma le eute sì anche se non me ne non lo so non riesco mai a vedermi anzi spesso mi trovo nella condizione di pensare sto cantando qualcosa che io non non incarno e quindi non mi vedo proprio esattamente come uno che ha avuto le palle però indubbiamente con tempi molto lunghi con grande fatica con piccoli passettini quella montagna cioè non mi sono effettivamente fermato al primo ristorante autocitandomi in questo delirio ormai di onnipotenza che è partito da cinque minuti in qua però sì con grande lentezza anche con grande difficoltà e forse non so neanche quanto sia giusto perché poi non è che uno debba sempre avere questa sorta di legame così stretto con quello che canta però siccome sono canzoni che hanno anche questo potere no molto spesso c'è persone che mi danno riscontro di come quella canzone in particolar modo e un altro paio che ho scritto siano stati importanti nella loro vita per dei cambiamenti allora mi piace comunque pensare che possa funzionare anche per la mia vita e quindi spesso me lo devo ricordare no che ogni fase della propria vita ha delle tappe che sono avvenute però che devi avere sempre quelle palle per poter rischiare di fare quello che ti pare perché anche in un momento di anzi soprattutto forse il momento in cui hai raggiunto una cima un traguardo è proprio quello il momento in cui te lo devi ridire quindi in questo senso le canzoni sono belle perché sono pure dei promemoria per ricordarti chi sei quando ti trovi a cantare ti accorgi di non incarnare fino in fondo quello che stai cantando o l'essere umano messo in scena nelle strofe ti senti disonesto? ma sì un po' disonesto ma questo perché viene sempre da questa sorta di forse moralismo eccessivo che ho introiettato un po' per l'educazione un po' perché appunto ho frequentato spesso da ragazzo la chiesa e quindi siamo cresciuti un po' con questa idea un po' forse perché ho vissuto in un contesto in cui comunque per riflesso a quello che purtroppo per cui siamo tristemente famosi l'onestà è un valore importantissimo da incarnare al 100% quindi anche in maniera forse estremizzata e con poca compassione e tenerezza rispetto alle proprie cadute e quindi e mi è capitato però poi ho avuto fortunatamente la forza anche di dirmi ok Dario ma non è che sei un santo diventi anche un po' veramente megalomine quando comincio a pensare di dover essere sempre coerente quindi questa visione un po' nel corso del tempo sarà anche l'età ho cominciato ad abbandonare nei primi tempi mi è capitato anche nell'ingenuità non solo di sentirmi disonesto perché non incarnavo ma anche di sentirmi disonesto perché magari per via della reiterazione dovuta ai concerti magari cantavo cose molto intense e però stavo pensando a tutt'altro mi ricordo proprio un concerto dove stavo cantando forse come stai e io stavo proprio pensando a tutt'altro cioè stavo pensando a tutt'altro mentre cantavo di come triste Natale senza mio padre e ho visto una ragazza piangere ho visto proprio le lacrime e lì ecco mi sono sentito è stato forse lì è stato giusto che mi arrivasse quella cosa perché ero troppo convenetrato nell'idea dello spettacolo e che tutto funzionasse bene stavo già pensando poi facciamo così e cosa poi dico questo e quest'altro e mi stavo proprio dimenticando che stavo cantando comunque la cosa che aveva dato motore che era una cosa importante per me ma anche per gli altri come stai il tuo primo disco la vita com'è l'ultima canzone che hai scritto in entrambe c'è disincanto ma nell'ultima ti chiedi come resistere allo spavento direi che ce l'hai fatta non so se ce l'ho fatta ma ce la sto facendo non credo che ce la possa fare mai nessuno però ecco questo gerundio mi piace mi piace vivere in una sorta di attitudini in cui non do per scontato di aver raggiunto delle cose e che che mi tengo in movimento ecco mi sembra questa cosa qui mi sembra molto più interessante invece io lo spavento cioè ci dovrò resistere per sempre nella vita e questa cosa qui penso che sia anche il senso della canzone anche l'idea che in questa canzone emerge per me è stata una grande conquista quella di dire finalmente di dirmi anche se tornassi indietro l'amore che tu stai cercando non lo troveresti più anche con la consapevolezza che c'hai oggi che è una cosa che ho faticato a maturare che ho sempre creduto cioè in me c'era il rimpianto molto spesso la nostalgia ma un rimpianto con l'idea che effettivamente tornare indietro potesse cambiare le cose e invece mi piace che nella canzone ci sia quella cosa se tornassi indietro l'amore non ci troverebbe più perché comunque non ci troverebbe più e questa è una buona consapevolezza si viene da dire che non c'è armatura più sicura del gerundio ci tiene perfettamente al riparo gerundiamoci 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 innanzitutto scusami una curiosità quasi impudica ma tu ci parli con tuo padre ogni tanto? sì cioè ci parlo cioè mi sono accorto non ci parlo proprio che dico babbo ciao mi commuovo pensando in alcuni momenti ad una cosa molto infantile cioè babbo lo vedi tipo hai visto che alla fine l'ho fatto ecco questa cosa qui che un po' contiene un senso di rivalsa rispetto a quello che poteva essere una sua disillusione che giustamente da uomo pratico e pragmatico quale lui era posso comprendere perché lui ci poteva credere fino a un certo punto anche se poi ho scoperto successivamente che lui andava a dire a tutti in giro che io comunque ero musicista e quindi non nascondeva gli altri anzi la pompava perché lui sperava che io facessi questa cosa lui sperava i miei risultati e quindi l'ho scoperto dopo che in realtà lui era contento in cuor suo che io facessi questa cosa però è chiaro che dentro di me il fatto che lui non abbia visto tutto quello che è accaduto dopo un po' ed è anche un motore un po' hai capito mi crea commozione ma è anche continua ad essere un motore cioè alla fine ti fai la stessa domanda che in quella bellissima canzone di Gregori in cui tutti corrono hanno fame di soldi e fame d'amore e corrono a cento all'ora lo fa rivolgere a sua madre e gli fa dire mamma chissà se valeva la pena fare tanta strada e arrivare qui sì è la stessa in fondo forse sì forse più quello che ti dicevo prima cioè per me più babbo devi essere fiero di me perché comunque in un altro modo ho fatto quello che hai fatto pure tu che hai fatto comunque una vita diversa da come era stata scritta e pensata per te e lui non si fermava di fronte agli ammonimenti dei medici che gli dicevano di mangiare di meno di bere di meno di fumare di meno e tu ascolti qualcuno no io sono più salutista rispetto a lui devo dire la verità ma lì penso che sia anche proprio in virtù di quello che è l'esperienza diretta quella sofferenza insomma io non sono un grande amante della vita lunga preferisco la vita larga come diceva De Crescenzo però ecco un po' più lunga quella di mio padre avrei preferito che fosse insomma è morto a 66 anni quindi sono contento che lui li abbia vissuti tutti intensamente come ho voluto liberamente però quella morte così mi ha fatto comunque maturare pure un'attenzione maggiore anche perché faccio un mestiere in cui è facile che se non stai attento insomma questo mito del cantautore che comunque è legato anche al vino che è legato al cibo che è legato a una vita in cui il corpo come dire è solo luogo di piacere è donistico allora cerco un attimo di tenerlo a bada a periodi arriviamo almeno fino all'età di Asnavur sì esatto ma io voglio arrivare all'età di Castellitto nel film del film con londini con londini dicono di te è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e Tender Stories io sono Malcom Pagani la cura editoriale è di Francesca Milano la supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli la post produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello le registrazioni in presa diretta sono di Lucrezia Marcelli il producer è Alex Peverengo a presto